Nel cuore di Perugia, a piazza 4 Novembre, dal 27 maggio riapre il Museo Capitolare di San Lorenzo, con una nuova gestione che ridà luce a una parte della città ancora molti sconosciuta. Sarà possibile fare una sorta di viaggio nel tempo, quindi scendendo entreremo in contatto con le testimonianze della città romana ed etrusca, passando attraverso il Medioevo. Due i punti fondamentali. Siamo in uno spazio medievale che con buona probabilità è uno degli spazi nei quali si svolsero cinque conclavi che vennero celebrati a Perugia. Questo accade nell'arco di tempo compreso fra il 1216 e il 1305. Siamo davanti a un maestoso muro etrusco risalente al II secolo a.C. È particolare questa struttura perché è quella che sostanzialmente regge piazza 4 Novembre ancora oggi. Patrimonio per la città con una nuova vita davanti.